L'amministrazione comunale di Martina Franca a Palazzo Ducale ha presentato la consegna dei lavori per la strada statale 172, la quarta corsia dello Rimini, con aste di penetrazione verso Martina Franca e Locorotondo. Nello specifico un'opera per rendere ancora più vicino l'Adriatico allo Ionio. Il primo cittadino martinese, Franco Ancona. Finalmente vengono consegnati i lavori per l'amodernamento della strada statale 172, insomma è un percorso lungo ma sicuramente che oggi ci consente di dire che i lavori possono finalmente iniziare. Naturalmente noi stiamo dicendo all'ANAS di iniziare nei punti di maggiore criticità che sono quelli della rotatoria della vinicola di Marco per esempio che tutti conoscono a Martina come uno dei punti a maggior traffico veicolare e anche di rischio. Penso che con quest'opera Martina potrà essere ancora più accogliente rispetto a quanto non lo sia già ma sicuramente si conclude un procedimento che ha visto protagonisti il consigliere Prentassuglia, la regione, l'ANAS, il governo. Un investimento per oltre 15 milioni di euro per un'opera che durerà oltre mille giorni, quella presentata dal responsabile coordinamento territoriale Adriaticanas Matteo Castiglioni, all'assessore dei lavori pubblici e i trasporti della regione Puglia Giovanni Giannini, oltre al presidente della quarta commissione consigliare della regione Puglia Donato Pentassuglia. Stiamo lavorando per l'accento sulle due ipotesi di progetto, abbiamo trovato i soldi, certo non facciamo can-can mediatico ma mi auguro che tramite voi la gente sappia l'immane e immenso lavoro che è stato fatto. Abbiamo lottato contro la burocrazia, contro i tempi, abbiamo lottato contro tante persone che parlano sui social ma hanno avversato in ogni modo il progetto, questo della quarta corsia ma anche tanti altri, se ne devono fare una ragione, questo è il modo di fare, di portare a casa i risultati, di consegnare oggi i lavori, mi auguro che iniziando con le rotatorie e la messa in sicurezza, nella fase invernale si possa dare avvio al cantiere sulla Orimini, ragionando anche con sud-est che ha accumulato dei ritardi con i quali ci stiamo confrontando questi giorni e finalmente possiamo sistemare e modernare questa che è l'asse di collegamento tra lo Ionio e l'Adriatico.